L'Emart è specializzata in sistemi di pressurizzazione ed aiuta gli amministratori di condominio a semplificare il loro lavoro. Come? Ti presentiamo EasyPress, un metodo semplice e professionale per la manutenzione del gruppo di pressurizzazione. Il vantaggio di EasyPress è quello di garantire benefici a chiunque sia coinvolto, ai condomini perché possono contare su un servizio efficiente e sulla riduzione drastica dei fermi in pianto e all'amministratore che riduce o annulla i reclami dei condomini, risparmiando tempo e guadagnando la fiducia degli stessi. Come funziona EasyPress di L'Emart? Le manutenzioni sono programmate nell'arco dell'anno e per ognuna sarà rilasciato un rapporto di intervento che attesta le verifiche effettuate. In caso di guasto, EasyPress allerta subito i tecnici prima che i condomini si accorgano della riduzione di pressione. L'intervento viene svolto dal primo tecnico disponibile che riattiva l'impianto. Le elettropompe guaste, invece, verranno portate nell'officina interna per la revisione e successivamente rimontate sull'impianto. Ma quanto costa EasyPress? A partire da solo 60 centesimi al mese per appartamento.